Quali sono le sue considerazioni post voto per quanto riguarda il risultato raggiunto da Flisi a livello nazionale che è più nel dettaglio a livello regionale qui in Sicilia? Partiamo dal dato nazionale. Flis esce da queste amministrative del 2012 con un dato nazionale che ci porta al 4,2%. Ora prendere il 4,2% in 2.000 endi locali considerando che in 2.000 endi locali non ci presentevamo a tappeto e questo è un fenomeno che comunque appartiene a tutti i partiti è da considerare che se si prende il 4,2% a livello nazionale alle amministrative è da riproporzionare al doppio quindi all'8% quello che può essere dato alle politiche. Da mettere in conto che alle amministrative del 2011, free perché nasconderlo, usciva col 2,80% quindi passiamo dal 2,80% al 4,2% alle amministrative che significa almeno il raddoppio per il dato politico. Andiamo in Sicilia. In Sicilia il partito prende il 7,3% ovunque si presenta tranne il caso eclatante di Palermo comunque supera lo sbarramento del 5%. Avere il 7,3% in Sicilia alle amministrative quindi in 140 endi locali significa proporzionato a elezioni di carattere regionale o nazionale che è un partito che ambisce sicuramente a dati molto più grossi. Da mettere in conto che quando si prende il 7,3% in Sicilia ripeto alle recentissime amministrative significa che c'è da riproporzionare il fatto al raddoppio perché alle amministrative c'è il fenomeno delle liste civiche quindi alla regionale questo non esiste, alle amministrative c'è da combattere con una miriade di altre liste. Quindi ne esce fuori un partito che già si sta radicando e da mettere in conto che noi siamo nati nel luglio del 2010. Noi abbiamo decretato con la nostra nascita la fine del berlusconismo, da lì è iniziata la lenta agonia del PDL, questo già l'avevamo detto nel 2010 ed oggi a meno di due anni è un partito che nonostante i giornali di Berlusconi contro i primi mesi, nonostante tutta la macchina della guerra di Berlusconi contro il Fli ci troviamo ad avere un partito ben radicato in regione. Andiamo ora al dato provinciale. In tutti i paesi della provincia della regione dove Fli ha presentato le sue liste, comunque in tutti i paesi della provincia Fli supera lo sbarramento del 5%. Fli diventa determinante nelle logiche degli apparentamenti, tant'è che da Grigento esce un partito con tre consiglieri comunali e diventa determinante per tutto lo scacchiere provinciale e per le prossime regionali. Fli che quindi diventa un elemento trenante importante all'interno del nascente terzo polo, a Canicattì la situazione del partito qual è? La situazione del partito è buona, è molto tonica, il partito cresce giorno dopo giorno, si radica ancora di più. Per quello che è il nostro gruppo di riferimento noi abbiamo raddoppiato i tesseramenti dei nostri circoli. Poi abbiamo un'attrattiva che viene anche dal fatto che a Canicattì abbiamo altre attività connesse ai circoli e quindi abbiamo molte adesioni provenienti da ex consiglieri comunali e da moltissime persone che in un primo momento avevano qualche remora a engiare nella destra protagonista, nella destra libera di Canicattì.